Domenica 18 dicembre si celebrerà il secondo Memorial a Massimo Gallucci. Nel ridotto del Teatro Comunale dell'Aquila dalle 18 in poi si ricorderà il medico, il ricercatore, il maestro, lo scrittore e il musicista Massimo. Con spettacoli tra umore e scienza, l'arte ispira l'arte, a cena con Massimo un buffo buffet e le note degli amici, i sale chiodato che chiuderanno la serata, il ricordo di Massimo Gallucci sarà vivo più che mai. Lo spirito è la totalità dell'arte che caratterizzava Massimo, che ricordo oltre ad essere un medico valente, ricercatore, era anche un artista. Artista perché scriveva libri, scriveva testi musicali, testi di canzoni, ha scritto due grossi, insomma per noi grossi romanzi che sono stati anche...